La decisione di dedicare un monumento alle vittime dei coincidenti sui posti di lavoro a Monteleone è venuta fuori scaturita dalla vicinanza che ha l'amministrazione, il comune di Monteleone a tutte le persone che hanno avuto un incidente sui posti di lavoro e soprattutto per ricordare che la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro è molto importante, quindi un monumento che onora coloro che sfortunatamente hanno avuto degli incidenti, ma attraverso il loro ricordo, puntualizzare che è molto importante fare prevenzione, è molto importante assicurare la sicurezza sui posti di lavoro al fine di ridurre questo fenomeno che è veramente inquietante. La priorità della vita è la sicurezza, è ritornare a casa come siamo partiti. Purtroppo in questo momento andiamo a fare le statistiche, stanno aumentando sia i morti sul lavoro, gli infortuni, ma soprattutto le malattie professionali.